Il gioiello si crea con la mente e con le mani. Fanno tra le sue risorse possiede anche un'importante tradizione nell'attività orafa. Una tradizione che ha avuto il suo impulso nel secolo scorso grazie alla didattica esercitata dall'Istituto d'Arte a Polloni in cui hanno insegnato grandi maestri. Ne sono nati anche grandi artisti le cui creazioni sono state apprezzate in tutto il mondo. Per non disperdere questa attività è stata istituita di recente grazie ad un'iniziativa dell'Associazione Culturale Una Arte l'Accademia Orafa di Fano animata dall'esperto d'arte Carlo Bruscia, da Silvano Clappis e dai maestri orafi che operano sul campo come Marco Meletti. Carlo Bruscia insieme al sindaco Massimo Seri ha presentato la prima iniziativa. Sentiamo di che cosa si tratta. La prima iniziativa sono i corsi post-diploma per questi giovani artisti della nostra realtà locale. Fano ha questa tradizione orafa che appunto si realizza negli anni 70 con Mannucci, Burri che Mannucci in pratica ha impostato tutto il gioiello contemporaneo. Ecco Fano questa tradizione non se la può sfuggire. Non possiamo perdere un patrimonio che vogliamo invece rimettere in funzione e valorizzare al massimo. Dopo questo corso propedeutico per riqualificare l'attività orafafanese ci sono altre iniziative organizzate dall'Accademia Orafa di Fano? Sì, saranno tutta una serie di iniziative riguardanti le mostre mostre all'interno di questa ricerca del gioiello d'autore. prevalentemente ci saranno anche nell'ambito del gioiello femminile cioè saranno molte donne nel settore del gioiello inedito anche perché questa realtà contemporanea non sarà più il gioiello solo in oro o in argento ma si lavorerà molto di più sui materiali inediti e quindi ci sarà questo approfondimento sulla qualità diciamo contemporanea di oggi. Come si svolgerà l'attività didattica di questa iniziativa? L'attività didattica si svolge su una settimana e comprenderà la progettazione di un gioiello fino alla realizzazione finale quindi cercheremo di dare ai ragazzi la possibilità di concludere un vero e proprio progetto quindi partendo da una progettazione di loro iniziative di loro spunto diciamo da un disegno da se possibile poi magari facendo dei render 3D fino alla realizzazione finale con materiali come argento, ottone, rame oppure anche ai materiali alternativi insieme all'attività proprio di laboratorio ci saranno anche delle attività formative di storia dell'arte ma soprattutto legate al territorio. Cosa vanno di più? Per esempio anelli, collane, orecchini e poi adesso sembra che la cosa sia anche unisex insomma non sia più limitata al mondo femminile. Il gioiello oggi è un mondo in continua evoluzione è vero che non solo più le donne si fanno i gioielli ma anche gli uomini e c'è una riscoperta soprattutto dopo il periodo del Covid c'è stata una riscoperta per il gioiello quello che può sembrare un momento di crisi in realtà c'è un gran fermento nel mondo dell'orificeria e della gioielleria. È una Summer School che testimonia questo fermento anche culturale che la città ha questo fermento che ha nel dare creare opportunità di diventare sempre più riferimento con l'obiettivo di riportare Fano a tornare ad essere un riferimento importante per tutto quello che riguarda l'arte orafa.